Enrico! Enrico! Ma dove puoi essere andato? Non ne ho idea. Non ti viene a mettere nessuno. Un amico. Un uomo politico non ha amici. Io sono perfettamente consapevole delle conseguenze che si scateneranno a Roma. E' proprio quello che voglio. Voglio vedere questi strozzi che cosa faranno senza di me. In questo momento il paese non può consentirsi a una latitanza dell'opposizione. Forse una persona che ci potrebbe aiutare c'è. Giovanni, suo fratello. E' uscito dal manicomio. Lo ritengono innocuo. Sei identico a lui. Io sono qui per far sì che domani non si dica i tempi erano oscuri perché loro hanno taciuto. Ma che cazzo di malattia ha avuto? Sembra un altro. E chi ti dice che io sia la stessa persona? Porto con me tutti gli uomini che ho matto nella mia vita. E anche te l'ho dimenticato. Ci sento solo un respiro. Sei tu. E che pazzo. Sì, così dicono. Sì, così dicono. Sì, così dicono.